Litigano come cane gatto, un detto che perde significato guardando la foto di Rex, Briciole e Lilli accoccolati sul divano del loro padrone Emilio. È uno dei tanti scatti arrivati al sito liberta.it e pubblicati nella galleria fotografica. Un'iniziativa di successo, si moltiplicano infatti i click che arrivano in redazione per mettere in mostri fedeli amici a quattro zampe. Per qualcuno un piacevole hobby, per altri un'indispensabile compagnia, per tutti i amici dell'inestimabile valore. I nostri lettori si sono sbizzarriti anche nelle didascalie. Guardate questa foto in cui tre gattini attendono che il loro padrone apra la porta per uscire, ma c'è chi non rispetta la fila. Poi ci sono Ugo e Desi e il pettirosso tra i rami di un albero innevato che in solitudine aspetta la primavera. E poi ancora The Cat Family, Paradise Relax, Violetta, la cavalla che vive in Olanda, Chicca, il gatto Riccardo in attesa del pranzo e tanti altri piccoli amici. Segno che l'iniziativa del sito liberta.it sta suscitando grande successo. Se anche voi volete regalare un momento di celebrità al vostro fedele amico, potete inviare i vostri scatti a fotogallery-teleliberta.tv oppure potete caricarla direttamente entrando nella fotogallery.